Il 7 settembre 2013 Fabio Graziani, giovane poliziotto del commissariato San Ferdinando di Napoli, è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Un furgone ha travolto il suo scooter. Il casco non è bastato a proteggerlo. Fabio è in coma e inizia il suo perlegrinaggio di ospedale in ospedale fino ad essere ricoverato oggi ad Innsbruck, dove i medici del centro specializzato in risvegli dal coma paventano possibilità di recupero. La permanenza di Fabio ad Innsbruck costa 250 mila euro. La sua famiglia non ha la disponibilità economica per sostenere tale spesa. Ed è per questo che questa mattina nella sede di Fedefarm a Napoli si è tenuta una conferenza stampa di presentazione di una serata di beneficenza dal titolo Tutto ha un senso, organizzata proprio per aiutare Fabio, giovane poliziotto e la sua famiglia. Due spettacoli che si terranno il prossimo 5 e 6 marzo all'interno del Teatro Tenda. Questa mattina, vicino alla famiglia, tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo spettacolo. Alle due serate parteciperanno a titolo gratuito artisti del calibro di Nino Buonocore, Barbara De Rossi, Peppino Di Capri, Giovanni Donzelli, Andrea Faustini, Enzo Gragnaniello, Nello Iorio, Luca Lombardo, Mariella Nava, Gennaro Cosmo Parlato, Patrizio Oliva, Massimo Rosolino e tantissimi altri. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato la moglie di Fabio che con le lacrime agli occhi ha precisato. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà? Sì, si stanno moltiplicando e sono tutte in relazione a Fabio. Penso che siano sempre troppo poche rispetto a quello che lui ha sempre dato a me e a tutte le persone che conosce. Lui è una bella persona e ti ripeto, merita tutto quello che stanno facendo, anche persone che non lo conoscono e che vogliono conoscerlo. Fabio è in coma vigile, ok, o stato di minima coscienza. Lui si rende conto di tutto quello che gli succede attorno. Avverte il dolore, sente le voci. L'ultima telefonata che gli ho fatto due giorni fa comunque girava la testa verso il telefono dove proveniva la mia voce. Quando sono stata su il 18 comunque lui ha riconosciuto la mia voce.